Vennità mille, è pagata, quindi in conti di regione, provincia, cultura, abbiamo anche proposto a Mediale Sdl di passare alla gestione al comune. Ebbene, in tutti questi passaggi molti attori che ora si propongono al risolutore della problematica, sono state sempre assenti, non le ho mai viste. In questo comizio accenderò ad alcune opere pubbliche che saranno subito attenzionate, già sottoscritto, con carattere di priorità. Completare una rete fognaria in alcune strade o ricostruirla in alto. I progetti ci sono, quindi è questione di allocare le risorse e avviare le procedure tecniche che porteranno alla realizzazione. Potenziare la pubblica e l'innovazione, anche con le nuove tecnologie a lento e con l'utilizzo dell'energia fa una volta che realizzare i canali di ronda a nord e a sud del paese. Un cerno dell'indicazione, e sto per finire, sul rapporto con le immigrati, il nostro gruppo è molto chiaro. Non mastichiamo le parole, non pratichiamo la falsa solidarietà. Gli immigrati, dal momento che abitano il lavoro da noi, non hanno più bisogno di falsa solidarietà.